Gli studenti del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo presenteranno una serie di opere artistiche per il concorso promosso dall'associazione Rondine intitolato Volta di Janine vive, dove i ragazzi saranno chiamati a dare un volto a Janine, una ragazza condannata a morte durante l'olocausto secondo la loro interpretazione. Il volto di Janine è il volto di una giovane condannata a morte durante l'olocausto per lanciare un messaggio a tutti i giovani, per dare la possibilità ai giovani di esprimersi con la loro arte dando un volto, dando una risposta all'indifferenza, questo è l'obiettivo praticamente del concorso. Vogliamo creare una società sana, siamo giovani, dobbiamo pensare a eliminare la guerra, non solvere i problemi con la guerra perché i problemi saranno sempre, perché abbiamo pensieri diversi, siamo diversi, ma dobbiamo scegliere il modo giusto per affrontare questi problemi, questi conflitti. Le opere verranno esposte in un luogo simbolo della città e nel mese di maggio sarà organizzata una cerimonia di premiazione per i primi tre classificati. Tutti vengono da zone di conflitto, si trovano a convivere non solo con il loro nemico, quindi l'israeliano con il palestinese, piuttosto che il serbo con il bosniaco, ma anche con giovani di tante culture diverse, quindi vivono una vita di convivenza e di dialogo, imparano a gestire in modo costruttivo i loro conflitti, a conoscere il loro nemico come persona.